Buongiorno, ben trovati a giovedì. Come ogni giovedì vogliamo e ci spostiamo in Europa, a Bruxelles, dove fra l'altro oggi arriverà anche il Presidente del Consiglio, Giorgio Ameloni, per seguire i lavori del Consiglio Europeo, un Consiglio in cui si parlerà molto anche dei dossier internazionali. Domani invece ci sarà spazio per quelli più economici. Passo quindi la linea a Renato Cohen che seguirà poi, dopo Generazione Europa, anche per noi il Consiglio Europeo e i suoi ospiti. Renato, a te. Sì, buongiorno Giovanna. Infatti è di questo che noi parleremo con Tiziana Veghin del Movimento 5 Stelle, capo delegazione del Movimento 5 Stelle, Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega qui al Parlamento Europeo. Come dicevi tu, i temi internazionali sono al centro di questo Consiglio Europeo. Come diceva Gianluca Aless, alla fine lei annuiva. Infatti bisogna cercare di contemplare tutta una serie di esigenze. La distruzione di Hamas, la salvaguardia dei civili all'interno del clan palestinese, il salvataggio degli ostaggi. D'altra parte Macron ha detto facciamo una coalizione tutti contro Hamas. Lei sarebbe d'accordo? Io credo che non ci siano dubbi alcuni sulla condanna totale verso chi comunque fa della violenza, l'arma principale per risolvere le questioni. È chiaro che è una situazione molto complessa e non ci sono soluzioni semplici a situazioni così complesse. Non credo nemmeno che possa essere la soluzione quella semplicemente di appoggiare Netanyahu senza se e senza ma. Cioè anche in questo caso c'è una polarizzazione tra il bene e il male, senza pensare che invece c'è una soluzione che è la pace. Noi la settimana scorsa a Strasvugo... Ma la pace, che vuol dire la pace? Cercare in tutti i modi di spingere verso... Cioè sono 80 anni che provano a fare la pace, quindi non è che diciamo è un'idea nuova. Provare non so quanto abbiano provato, visto che il risultato non è riuscito ad essere raggiunto. Non sono mai riusciti. Non sono mai riusciti. Però ecco, nella misura in cui noi come forze ci schieriamo e polarizziamo ulteriormente il conflitto in questo momento, non credo che si arriverà invece a quel risultato che è quello di avere un cessato del fuoco, soprattutto una tutela dei civili con dei corridoi umanitari. E a questo proposito, nella scorsa plenaria, abbiamo avuto il caso, insomma, anche non singolare, non strano, di colleghi che volevano impedire la presentazione di un emendamento per la pausa umanitaria e quindi per arrivare comunque a proteggere i civili. E queste sono cose che purtroppo succedono anche al Parlamento europeo. Mentre noi dobbiamo mostrare unità in questo senso ed arrivare invece a puntare a quell'obiettivo. Poi lo sappiamo che è difficile da raggiungere, ma dobbiamo averlo come obiettivo. Un tweet che ieri ha pubblicato il capo dell'opposizione israeliana, che certamente non è tenero con Netanyahu da tempo, ma in questo caso Yair Lapid se l'è presa con la sinistra globale, diciamo così, e erano 14 tweet, il primo dice «Quanti ebrei devono morire prima che smettiate di incolparci per tutto ciò che accade? Perché in quel sabato nero di due settimane fa ne sono stati uccisi 1400? Di quanti altri avete bisogno? 10.000? 6 milioni?» L'accusa di Lapid, Begin, è che anche di fronte ad un massacro che percentualmente l'11 settembre lo supera, subito dal giorno dopo si è iniziato a dire «Però Israele stai attento, adesso dobbiamo valutare le condizioni dei palestinesi, specialmente da parte della sinistra europea». È d'accordo lei con quest'analisi? Io credo, come dicevo prima, che anche in questo caso si tenda sempre a fare confusione tra i buoni e i cattivi. Personalmente quello che posso dire è che non si può che condannare l'attacco che è stato compiuto il 7 di ottobre nei confronti dei civili di Israele, ma allo stesso modo dobbiamo stare molto attenti a come ci poniamo rispetto a quelle che possono essere poi le contromisure che Israele prenderà nei confronti dei palestinesi, perché dobbiamo ricordarci che nella striscia di Gaza non c'è solo Hamas, ci sono i cittadini palestinesi. Oltre il 75% degli abitanti della striscia di Gaza sono persone sotto i 25 anni, quindi nessuno vuole ulteriore violenza, nessuno vuole ulteriori morti, ma non li vogliamo né da una parte né dall'altra. Quindi credo che poi è chiaro che uno quando è parte in causa si senta particolarmente attaccato, però non ci sono morti di serie A o morti di serie B, bambini di serie A o bambini di serie B. Vediamo, commentiamo le parole di Erdogan a cui faceva riferimento prima anche Gianluca Ales. Senza ascoltarlo abbiamo preparato con Francesco Di Blasi una grafica che dice la frase principale. Allora Erdogan dice Hamas non è un'organizzazione terroristica ma un gruppo di liberazione, un gruppo di mujahideen che combatte per proteggere il proprio territorio e i propri cittadini. L'Europa è molto divisa e debole anche perché essendo democratica ovviamente dà spazio a molte posizioni. E a volte si aggrappa posizioni specifiche a secondo della propria idea politica che sono abbastanza strumentali. Erdogan che proclama appunto i diritti dei palestinesi conculcando quelli dei curdi. Putin che quasi ironicamente dice a Israele salvaguardate le vittime civili. I libanesi che appoggiano i palestinesi in Israele ma che non danno la possibilità ai palestinesi in Libano neanche di acquistare un'automobile o di avere la cittadinanza già da 40 anni. È molto difficile guardare fuori dall'Europa da questo punto di vista. Sicuramente è molto difficile e forse è letto una grande verità. Noi abbiamo un sistema democratico che per fortuna ci consente ancora di esprimere diverse posizioni e cercare di arrivare a delle convergenze a volte che sono magari dei compromessi ma che in qualche modo cercano di perseguire il bene comune e soprattutto di tutelare tutte le fasce e tutte le minoranze. Questo non avviene in certi paesi, questo è vero, ma ahimè la nostra debolezza non è quella di essere un paese democratico. La nostra debolezza casomai è quella di non essere abbastanza forti sulle posizioni che siamo riusciti a raggiungere come comunque forza democratica e poterle portare al di fuori dei nostri confini. Su quello noi dovremmo essere molto più forti, molto più intransigenti e invece vediamo che anche in questi frangenti si creano le tifoserie. Come giudica la prestazione, chiamiamola così, delle istituzioni europee dopo il 7 ottobre? con von der Leyen che ha appoggiato Israele, Borrell che l'ha sconfessata, i paesi divisi, alcuni l'hanno detto veramente imbarazzante. Sì, ecco, il termine corretto è quello. E voi in Parlamento riuscite a mettere una pezza? Sì, io credo che effettivamente sia stato piuttosto imbarazzante, invece noi in Parlamento cerchiamo di arrivare a posizioni comuni per riportare l'esempio della scorsa settimana delle questioni sul voto sulla pausa umanitaria con un'està intellettuale, devo dire che per esempio i colleghi italiani stessi hanno cercato di riportare alla ragione i colleghi delle altre nazioni, quindi in realtà noi cerchiamo comunque in qualche modo, pur nella nostra diversità, di arrivare a delle posizioni comuni e di arrivare a delle soluzioni. Poi noi eravamo per il cessato del fuoco come forza politica, ma chiaramente se si arriva alla pausa umanitaria non diciamo di no. Quindi insomma questa è la nostra forza. L'Unione Europea purtroppo troppo spesso ultimamente non dà prova di grande maturità politica, ecco possiamo metterla così. Il fatto che ci sia meno attenzione fisiologica nei confronti dell'Ucraina, secondo voi che avete sempre un po' criticato la posizione univoca a favore di Kiev, è un bene o un male perché lì la guerra comunque va avanti? Io non credo che ci sia meno attenzione nello specifico, cioè forse meno attenzione mediatica in questo momento, però da un punto di vista pratico l'attenzione c'è tutta, lo vediamo anche nei negoziati che ci sono sul patto di stabilità e crescita, dove l'unica cosa su cui tutti i paesi convergono, ahimè, è quello di scorporare dai rapporti delle spese militari o nell'approvazione di provvedimenti che portano a un aumento dello sforzo bellicistico anche con una certa velocità. Quindi ahimè, forse è una caduta di attenzione esclusivamente mediatica per dare spazio ad altri avvenimenti più attuali, ma purtroppo lo sforzo in quella situazione è sempre più importante. Ringrazio la Tiziana Beghin, grazie Marco Campomenosi, Giovanna a te ti ridò la linea, ci rivediamo dopo. Grazie a tutti.